sui piaceri dell'oppio si è scritto parecchio le escasi e gli orrori di De Quincy e i paradis artificiali di Baudelaire sono presentati con un'arte che li rende immortali e il mondo conosce perfettamente la bellezza in terrore al mistero degli oscuri regni nei quali viene proiettato il fervido sognatore ma per quanto si sia detto nessuno ha osato definire la natura dei fantasmi così rivelati alla mente o allutere alla direzione delle strade inaudite lungo il cui ornato ed esotico percorso chi ha preso la droga viene attratto in modo irresistibile De Quincy veniva trasportato in Asia terra brulicante d'ombre la cui antichità è così impressionante che la vasta età della razza e della stirpe schiaccia nell'individuo ogni senso di giovinezza ma non osava spingersi oltre quelli che l'hanno fatto raramente sono tornati e anche allora hanno tagiuto sono impazziti io ho preso l'oppio una volta sola nell'anno dell'epidemia quando i medici cercavano di soffocare i tormenti che non riuscivano a curare me ne fu somministrata una dose eccessiva il mio medico era allogorato dagli orrori e dallo sfibramento e di conseguenza mi spinsi molto lontano è vero sono tornato e sono vivo ma le mie notti fremano di ricordi allucinanti e non ho mai più permesso a nessuno di darmi l'oppio all'epoca in cui la droga mi fu somministrata soffrivo di atroci dolori e violente pulsazioni alla testa il futuro non mi interessava fuggire ai tormenti con una cura appropriata l'incoscienza o la morte era la mia sola preoccupazione per buona parte del tempo deriravo quindi non posso dire con esattezza quando si è avvenuto il trasferimento ma credo che l'effetto cominciasse poco dopo che il pulsare alla testa smise di darmi dolore come ho detto avevo ricevuto una dose eccessiva e le mie reazioni devono essere state tutt'altro che normali la sensazione principale era quella di cadere anche se non aveva niente a che fare con i concetti di gravità e di direzione e se nutrivo un'impressione secondaria di folle incalcolabili folle di natura infinitamente diversa ma tutte più o meno collegate a me a volte non era proprio come se stessi cadendo ma come se l'universo il tempo mi precipitassero intorno ben presto il dolore cessò e cominciai ad associare il battere alle tempie con una forza esterna invece che interna anche la caduta si era fermata dando luogo a una sensazione di riposo disagevole e temporaneo ascoltando più attentamente immaginai che il pulsare fosse quello del grande e inscrutabile mare e che immensi cavalloni tormentassero una spiaggia solitaria dopo una tempesta di vasta portata poi aprì gli occhi per un attimo l'ambiente sembrò confuso come un'immagine proiettata su uno schermo e non messa a fuoco ma poco a poco mi resi conto che mi trovavo in una strana e bella stanza illuminata da molte finestre non riuscì a farmi un'idea chiara dell'appartamento perché le mie facoltà non avevano ripreso a funzionare normalmente ma notai tappeti multicolori e tendaggi tavoli elaborati sedie ottomani divani vasi delicati e ornamenti che davano un'idea di esotismo senza essermi veramente estranei notai tutto questo senza permettere che i miei pensieri ne fossero occupati troppo a lungo poco a poco ma inesorabilmente si insinuò nella mia coscienza e giunse a dominare ogni altra sensazione una sconcertante paura dell'ignoto paura tanto più grande in quanto non riuscivo ad analizzarla e che sembrava riguardare un pericolo che ci faceva sempre più vicino non era la morte ma qualcosa di inaudito e orrendo qualcosa che non si può esprimere finalmente mi resi conto che il simbolo immediato ed eccitante la mia paura era l'odioso battito inesorabile pulsava senza posa alle pareti del mio cervello esausto sembrava venire da un punto che si trovava in basso e all'esterno dell'edificio ed era legato a terrificanti immagini mentali sentii che una scena un oggetto orribile si nascondeva oltre tendaggi di seta e tremai all'idea di guardare dalle finestre con le inferriate che si aprivano su ogni lato come un invito a impazzire vidi che le finestre avevano le imposte e le chiusi tutte costringendomi a non guardare fuori poi usando un acciarino e una selce che trovai su uno dei tavolini accesi le numerose candele che si trovavano nei candelieri arabeschi lungo le pareti il senso di sicurezza datomi dalle imposte chiuse e dalla luce artificiale calmò fino a un certo punto i miei nervi ma non riuscì ad eliminare il minaccioso battito adesso che ero più tranquillo il suono mi parve affascinante oltre che angoscioso e provai il desiderio contradditorio di individuarne la fonte nonostante la paura sul lato della stanza più vicino al battito c'era un tendaggio lo scostai e mi trovai in un piccolo corridoio riccamente tappezzato che terminava in una porta scolpita e una finestra sporgente fui attratto irresistibilmente da quest'ultima anche se i miei vaghi timori mi consigliavano di restare dove ero avvicinatomi alla finestra vedi un turbinio caotico di acqua in distanza e guardai su ogni lato sconvolto dalla scena meravigliosa che mi si presentava non avevo mai visto un panorama del genere e credo che non sia mai capitato nessun uomo salvo nei deliri della febbre o nell'inferno dell'oppio l'edificio in cui mi trovavo sorgeva su una stretta punta o ciò che adesso era una stretta punta e si elevava di buoni cento metri su un vortice di acqua impazzite su un lato e l'altro della casa vedevo precipizi di terra rossa che dovevano essersi formati nelle ultime ore mentre davanti a me le onde spaventose si alzavano ancora in tutta la loro furia divorando il terreno con paurosa monotonia e determinazione a circa un chilometro e mezzo dalla costa si alzavano cavalloni alti 15 metri e all'orizzonte si accumulavano orrende nubi nere e contorni grotteschi che sembravano inattesa come a voltoio le onde erano scure e violette quasi nere e si aggrappavano al fango rosso eccedevole della terra ferma come mani avide e rozze non potei fare a meno di pensare che un'orribile entità marina avesse dichiarato guerra alla terra aiutata magari dal cielo e racondo dopo un po mi ripresi dallo stupore in cui mi aveva gettato quello spettacolo innaturale e mi resi conto che correvo un serio pericolo fisico nel tempo che ero rimasto a guardare la terra ferma aveva perso pareti metri e fra non molto la casa priva di sostegno si sarebbe inavvissata nel vortice di onde scatenate mi affrettai sul lato opposto dell'edificio e trovato una porta usci immediatamente chiudendo l'uscio dietro di me con una strana chiave che avevo trovato all'interno vedevo ora un'ampia porzione della regione in cui mi trovavo e notai la bizzarra partizione che sembrava esistere fra l'oceano e il firmamento sui due lati della penisola regnavano condizioni diverse alla mia sinistra si guardavo in direzione della terra ferma da un mare appena mosso con grandi onde verdi che si succedevano tranquillamente sotto un sole brillante qualcosa nella posizione e nella natura di quel sole mi fecerà brividire senza che potessi dire perché alla mia destra c'era il mare ma era azzurro e calmo ho appena increspato mentre il cielo era più scuro e la terra lambita dalle onde era più bianca che rossa spostai la mia attenzione sulla terra ferma e debbi nuove sorprese perché la vegetazione non assomigliava a niente che avessi mai visto o di cui avessi letto era tropicale o quantomeno subtropicale conclusione che mi era sfuggita dall'intenso colore dell'aria a volte mi sembrava di poter tracciare bizzarre analogie con la flora del mio paese natale e pensavo che le piante cui ero abituato si sarebbero trasformate così se ci fosse stato un drastico cambiamento di clima ma le grandi e onnipresenti palme erano evidentemente straniere la casa da cui ero prima uscito era molto piccola poco più che una capanna pur essendo fatta di marmo e avendo un'architettura mista e fantastica ricavata da una fusione di elementi occidentali orientali sugli angoli c'erano colonne corinzie ma il tetto di tegole rosse era quello di una pagoda cinese dalla porta che dava sulla terra ferma partiva un sentiero di sabbia misteriosamente bianca lungo circa un metro e mezzo e fiancheggiato da palme imponenti vegetazione opulenta e fiori che non sapevo identificare il sentiero si sonodava dalla parte dove il mare era azzurro e la sponda quasi bianca mi sentì spinto a percorrerlo di corsa come se mi inseguisse uno spirito maligno dell'oceano che rombava in un primo tempo il viotto lo saliva poi raggiungeva una modesta altura alle mie spalle vidi la scena che avevo lasciato la punta del promontorio la piccola casa le acque nere con il mare verde da una parte e quello azzurro dall'altra è una maledizione imprevedibile sconosciuta che gravava su tutto non ho mai più visto niente di simile e a volte mi chiedo ma dopo l'ultima occhiata mi incamminai per la mia strada e non pensai che alla scena offerta dalla terra ferma davanti a me il sentiero come ho spiegato correva lungo la riva destra quando ci si dirigeva verso la terra ferma sulla sinistra davanti a me vidi una valle magnifica magnifica e ampia migliaia di acri che l'erba tropicale e lussurreggiante l'alta della mia testa copriva per intero quasi ai confini del campo visivo torreggiava una palma gigantesca affascinante che sembrava farmi cenno ormai lo stupore e il sollievo per essere sfuggito dalla penisola condannata avevano sconfitto in gran parte la paura ma quando mi fermai a riposare sedetti stremato sul viottolo fui afferrato da un nuovo e acuto senso di pericolo avevo affondato le mani nella sabbia tiepida e biancastra e il terrore del mare che pulsava in modo ossessivo si aggiunse a quello di qualcosa che se nascondeva nell'erba alta gridai in modo disarticolato tigre tigre è la tigre bestia bestia è la bestia ciò di cui ho paura la mia mente ricordò un'antica e classica storia di tigre che avevo letto e mi sforzai di ricordare l'autore ma sulle prime non si riuscì poi nel pieno del terrore ricordai che era di ruyard kipling e l'averlo considerato uno scrittore antico mi sembrò grottesco desiderai il volume che conteneva il racconto e mi ero quasi incamminato verso la casa condannata per procurarmelo quando il buonsenso e il fascino della palma ebbero la meglio non so se avrei resistito al desiderio di tornare indietro se non fosse per il contro richiamo dell'albero esotico ormai era l'attrazione dominante e lasciai il sentiero per dirigermi verso le pendici della valle strisciando su mani e piedi in questo modo vinsi la paura dell'erba e dei serpenti che poteva contenere ero deciso a lottare per la vita e la ragione contro le minacce della terra e del mare anche se a volte temevo di essere sconfitto e il furioso ondeggiare dell'erba mi torturava come il pulsare dei cavalloni ancora udibile nonostante la distanza spesso mi fermavo a coprirmi le orecchie con le mani per avere sollievo ma non riuscivo a escludere l'eco terribile mi sembrò che passassero anni prima che riuscissi a trascinarmi sotto la palma invitante e a riposare sotto l'ombra protettiva dei suoi rami poi avvennero una serie di fatti che mi riportarono agli estremi opposti dell'estasi e dell'orrore fatti che tremo a ricordare e che non oso interpretare ero appena scivolato all'ombra della palma che dai rami si calò un bambino bellissimo benché coperto di polvere e stracci aveva l'aspetto di un fauno o di un semidio e all'ombra densa del fogliame sembrava diffondere un alone luminoso sorrise e tese una mano ma prima che potessi alzarmi e parlare senti nell'aria un canto squisito note basse e alte si mescolavano in una sublime ed eteria armonia nel frattempo il sole era calato e nel crepuscolo vedi che la testa del bambino era circondata da una oreola di luce poi finalmente parlò in toni argentini è la fine sono calati sui raggi delle stelle e ormai non possiamo più niente si ritireremo in pace a telo e oltre i fiumi di erinuria mentre il bambino parlava notai che tra le foglie di palma si diffondeva un debole chiarore e salendo illuminò una coppia che sapevo essere quella dei due principali cantori dovevano essere un dio e una dea perché una bellezza come la loro non appartiene al regno dei mortali prendendomi per mano dissero vieni figlio hai udito le voci ed è così per il meglio a telo e oltre la via lattea e i fiumi di arinuria ci sono città d'ambra e calcedonia dove le immagini di strane meravigliose stelle brillano sulle cupole sfaccettate sotto i ponti d'avorio di telo e scorrono fiumi d'oro liquido che trasportano i battelli del piacere verso la fiorita citarion dei sette soli a telo e a citarion vivono solo la giovinezza la bellezza e il piacere e non si sentono altri suoni che quelli del riso del canto e i flauti solo gli dèi vivono a telo e dei fiumi d'oro ma tu sarai tra loro mentre ascoltavo incantato mi resi conto che qualcosa era cambiato nella scena la palma che fino a quel momento aveva fatto ombra al mio corpo esausto si trovava ora a una certa distanza da me più in basso e sulla sinistra mi ero alzato in volo nell'atmosfera accompagnato non solo dallo strano bambino e dalla coppia meravigliosa ma da una folla crescente di ragazzi e ragazze luminose inghirlandati di foglie che avevano un'espressione gioiosa e i capelli al vento salivamo insieme lentamente trasportati da una brezza che non veniva dalla terra ma dalle nebulose dorate e il bambino mi sussurro all'orecchio che dovevo guardare sempre in alto ai sentieri della luce mai alla sfera che avevo appena lasciato ora i ragazzi e le ragazze cantavano dolci coriambici che accompagnavano con i flauti e io mi sentivo avvolto da una pace e una felicità più profondi di quelli che in vita avessi mai immaginato quando l'intrusione di un suono estraneo cambiò il mio destino e mandò in frantumi la mia anima nella meravigliosa melodia dei cantori e dei musici penetrò come una beffarda e diabolica concordanza l'orribile e dannato pulsare dell'oceano che saliva dall'abisso e mentre le onde nere battevano alle mie orecchie il loro messaggio dimenticai le parole del bambino e mi guardai indietro contemplando la scena del disastro a cui credevo di essere sfuggito e attraverso lettere vidi la terra maledetta che girava sempre mari irati e tempestosi che rodevano le sfonde desolate e schiumavano contro le torri in rovina di città abbandonate sotto la luna spaventosa biancheggiavano visioni che non posso descrivere scene che non dimenticano mai deserti d'argilla come cadaveri giungle di rovina e corruzione dove una volta erano fioriti i villaggi popolosi e le pianure della mia terra natale vortici d'acque tempestose al posto dei templi dei miei antenati intorno al polo nord fumava una palude di piante disgustose e vapori miasmatici che sibilavano a contatto con le onde sempre più alte che dilagavano schiumando da abissi senza fondo poi un mostruoso fregore devastò la notte e il deserto dei deserti fu spaccato da una fossa fumante l'oceano nero ribolliva ancora e divorava il deserto ai lati mentre al centro la spaccatura si allargava sempre più non restava altra terra che il deserto e ancora l'oceano schiumante lo attaccava mi resi conto all'improvviso che persino il mare pulsante aveva paura di qualcosa paura degli dei oscuri del sottosuolo che sono più potenti del dio maligno delle acque ma anche se era così non poteva tirarsi indietro e il deserto aveva sofferto troppo a causa delle onde d'incubo per volerle aiutare così l'oceano azzannò l'ultimo lembo di terra e precipitò nella spaccatura fumante cedendo in un attimo tutto quello che aveva conquistato defluì dalle terre appena allagate scoprendo morte e distruzione e gocciolò disgustosamente dal suo letto antichissimo portando alla luce i segreti degli anni in cui il tempo era giovane e gli dei non erano ancora nati sulle onde spuntarono guglie familiari avvolte dalle alghe la luna posò raggi candidi sulla morta londra e parigi si levò dal sepolcro d'acqua per essere benedetta dalla luce delle stelle poi emersero guglie e monoliti coperti d'alghe ma niente affatto familiari terribili monumenti di terre che gli uomini non avevano mai conosciuto come terre non sentivo più alcun pulsare ma solo il boato ultraterreno dell'oceano che precipitava sibilando nella spaccatura i fiumi che ne salivano si erano trasformati in vapore e mano a mano che diventavano più densi nascondevano il mondo mi scottarono la faccia e le mani e quando mi voltai per vedere se avessero fatto del male ai miei compagni vidi che erano scomparsi ben presto fu tutto finito e non seppi altro fino a quando mi svegliai nel mio letto di convalescente quando le nuve di vapori che si alzava dall'abissale spaccatura ebbe nascosto la superficie tutto il firmamento urlò per la sofferenza provocata dal boato come un eco che scuotesse lo spazio ci fu un lampo un'esplosione un olocausto accecante e assordante di fuoco fumo e tuono che cancellò la luna nel suo corso quando il fumo sparì io cercai di individuare la terra sullo sfondo di stelle fredde e beffarde non vidi che il sole moribondo e i di sconsolati pianeti e cercavano la loro sorella